Buongiorno, mercoledì 18 settembre 2019, ben trovati in questa nuova edizione di Mattino 6 per vedere i fatti più importanti della giornata di ieri ricapitolati nei giornali, testate locali e nazionali. Iniziamo subito dalle prime pagine locali con le quattro edizioni del centro, quattro edizioni che però hanno la medesima apertura sul grave fatto di cronaca che si è verificato ieri a Caprarra di Spoltore. Possiamo andare subito sull'edizione di Pescara, bus di studenti si schianta 24 feriti, Paura a Spoltore, il Mezzotua centrato da un'auto grave, una 17enne. E qui vediamo una foto di quello che resta della parte anteriore del Mezzotua, che ha anche avviato una indagine sull'accaduto. E poi vediamo intanto dei richiami di politica nazionale, con delle conseguenze che ci sono anche sul fronte locale. La scissione del PD, ecco Italia viva, il nuovo partito di Matteo Renzi, l'addio di Matteo Renzi al PD, torna a scuotere la politica italiana, l'ex premier scioglie gli ormeggi e porta con sé almeno 40 parlamentari, diventando il terzo azionista dell'esecutivo giallorosso dopo Movimento 5 Stelle, PD e prima di Leu. Ma Renzi ha già tracciato la sua strada da qui alla prossima Leopolda. Il nuovo partito si chiamerà Italia viva. E poi ancora, venendo alla nostra regione, Spoil System, Abruzzo spartite, altre 15 poltrone, altri 15 posti spartiti tra Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, completano quasi del tutto lo Spoil System della maggioranza in regione, ma resta aperta la partita sull'Agenzia Sanitaria. Mentre tra i neodesignati spunta il primo rifiuto, quello dell'Avvocato Gian Donato Morra. E poi altri richiami di spalla presso il comune di Pescara. Comune Masci cambia i vertici, nuovi direttori e capi servizio. Il sindaco ha completato l'organigramma dei vertici del comune con le nomine dei nuovi coordinatori d'area, dei responsabili dei servizi. E poi la cronaca, banda in azione, due gioiellerie svaliggiate a Villaraspa e Città Sant'Angelo. Per lo sport, Tuminello Stop, il Pescara Rosa Ampia non si torna sul mercato. Quindi torniamo alla cronaca, violenza in centro, feriti due poliziotti a Pescara, Senegalese colpisce a calci in volto il cugino e aggredisce gli agenti, arrestato. E chiudiamo con il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna. Uziare è complicato, meglio lavorare. Andiamo sull'edizione di Chieti Lanciano-Vasto, appunto come detto medesima apertura. Vediamo i richiami di cronaca locale. Intanto a Basto, centro anziani chiuso dai NAS, fa assistenza senza licenza. Il centro anziani di via Silone a Basto è stato chiuso dopo un'ispezione dei carabinieri del NAS. Attività di assistenza senza autorizzazione. Lanciano, incubo auto alla scuola di Marcianese, fila di un'ora. E poi a Chieti, piscina da oggi si riparte, la gestione va al comune. Ancora la cronaca, aizza il pitbull contro i genitori. A Chieti, due giovani figli violenti allontanati da casa, pretendevano i soldi per la droga. Andiamo ora sull'edizione teramana del centro. Subito i richiami di Spalla, Teramo, gli sfollati, Farabollini. Venga a vedere con l'atterrato. La richiesta al commissario per la ricostruzione è parte dall'assemblea del quartiere nel quale il terremoto ha provocato i maggiori danni. A Colonnella, niente stipendi. Proclamate la TR 40 ore di sciopero. A Giulianova, mercato ittico, a sta record dopo il fermo biologico. E poi la cronaca, arrestato un falso maresciallo a Teramo, ha truffato un'anziana dicendole che suo figlio era in stato di fermo. E ora l'edizione di L'Aquila, Avezzano, Sulmona, del centro. I richiami di Spalla. L'Aquila, la scuola, c'è più fiducia dopo la visita di Mattarella. Preside e insegnanti sono d'accordo. C'è più fiducia nella ricostruzione delle scuole dopo la visita del capo dello Stato e del ministro Fioramonti. Ad Avezzano, a Madonna del Passo, la sosta si paga pregando. A Sulmona, nella giunta comunale, via allo scambio delle deleghe. E poi ancora, torniamo alla cronaca, con la moto contro una mucca. Tragedia sfiorata a Rocca di Mezzo. 51enne ferito alla testa, finisce in ospedale. Andiamo ora sulla prima pagina del messaggero Abruzzo. Ed ecco l'apertura sul medesimo fatto di cronaca. Sangue sull'autobus degli studenti. Una ragazza di 17 anni è la più grave tra i 50 feriti dell'incidente avvenuto ieri nei pressi di Spoltore. Il mezzo della tua ha centrato un albero per schivare uno scontro frontale. Ore di lavoro per i soccorsi. E qui troviamo, a centro pagina, anche in questo caso, una foto. Con le parole di alcuni dei testimoni, sembrava una guerra. Ancora andiamo sotto la testata, verso la metropoli. Eravamo Montesilvano. La fusione risveglia l'orgoglio. E poi Serie B. Tuminello si opera. Pescara dice no agli svincolati. Calcio direttanti. Anche Buffon. Tifa rosso-blu. Sostegno alla Nuova L'Aquila. Il portierone della Juventus è autore di una importante donazione al club. che ora è gestito dai tifosi, il vice di Sarri e l'Aquilano Gianni. E poi di Spalla, belle imprese, vino. Il colosso dell'imballaggio cresce grazie al crowdfunding. E poi ancora la cronaca in taglio medio. Il bimbo morto senza cure, genitori nei guai. La procura di Sulmola chiede di processare il papà e la madre del piccolo di appena 11 mesi. E poi due richiami di cronaca. Lanciano vola con l'auto in un fossato. Grave un giovane. Il nuovo partito sconcerto nell'EPD. Ecco chi seguirà. Matteo Renzi. E poi in taglio basso l'Aquila rinasce. Norme speciali per le scuole. Andiamo sulla prima della città. Il quotidiano della provincia di Teramo. Asfalti. Si parte da Ponte San Gabriele. Il piano da oggi alla prova del traffico di settembre. Per le frazioni tutto rimandato al 2020. E poi sotto la testata. Gavioli di Montori Albomano. Impresa Teramana restaura il Quirinale. E poi a centropagina la fotonotizia a Colledara. L'intimidazione ai sele controllori della provincia. Caccia oltre il limite. Andiamo di spalla. Fronte delle nomine. Nicola D'Alterio in Pol per la direzione dell'IZS Caporale. Per la cronaca arrestato. Beccato in Sicilia con 46 chili di marijuana. In taglio basso per la politica. Renzi crea scompiglio nei dem. Ginobliani alla scissione. D'Alfonsiani no. Chiaramente la scissione del PD è uno degli argomenti principali che troviamo sulle testate nazionali. Andiamo proprio ad aprire questa ampia parentesi come sempre. Siamo sul Corriere della Sera. Zingaretti, ecco l'apertura. Così cambio il PD. Renzi non l'ho capito. Tensioni per la scissione. Conte poco trasparente. Parla il leader Dem. Spero non si destabilizzi l'esecutivo. Il pericolo c'è. L'ex premier lancia Italia viva. Sotto la testata Champions. Inter solo 1-1 a San Siro. Il Napoli batte il Liverpool. Scendiamo e vediamo di spalla. Atlantia poteri a Cerchiai e Bertazzo. Caso autostrade Castellucci. Ci lascio nell'interesse di tutti. E poi in taglio medio. Intanto la fotonotizia. Gans davanti a Netanyahu. Israele. Rebus maggioranza. Exit poll. Premier in difficoltà. Possibile paralisi politica. E poi ancora di spalla. Ferisce un soldato nel nome di Allah. L'ipotesi terrorismo. Milano era già segnalato in Germania. Andiamo con la prima di Repubblica. Ecco qui l'apertura. Il governo del 3 più 1. Eccoli qui. Zingaretti, Conte Di Maio più Matteo Renzi. E poi le dichiarazioni virgolettate di Zingaretti. Se c'è chi spera che io sia preoccupato non ha capito nulla di noi. Non sento le scosse di un terremoto. Il Premier Conte. Non sono angosciato. Ma ho spiegato a Zingaretti che avrei dovuto saperlo prima di formare l'esecutivo. E poi Luigi Di Maio. A Matteo ho detto che non tolera nuove tensioni. Lo ha già fatto qualcun altro e ci è bastato. E poi appunto le parole di Matteo Renzi. La mia creatura sarà allegra e divertente. Voglio bene ai democratici. E Conte non abbia ansie. Renzi annuncia il nome del partito. Italia Viva. Già due ministri e 40 parlamentari con me. Sfida Salvini. Ora il confronto in TV. L'amarezza del Premier. Il PD avrebbe dovuto dirmelo quando ho ricevuto l'incarico. Prodi la farmentazione ci distruggerà. E poi Zingaretti. Un errore dividerci adesso. Ma non grido al tradimento. Scendiamo in taglio basso. Voto in Israele. Gli exit poll. Netanyahu non ha la maggioranza. Testa a testa con il moderato Gans. Andiamo sulla prima del fatto quotidiano. Ecco l'apertura. Autostrade non si fida di autostrade. Via Castellucci con 13 milioni di buon uscita. I Benetton coprono d'oro. La D. E piangono per lo sciocco emotivo delle inchieste. Le ispezioni interne sui ponti viadotti affiancate da quelle di società esterne. E poi andiamo sotto la testata. La prima missione di Renzi. Sabotare le intese regionali. Conte irritato. Perplesso sui tempi della scissione. Andiamo oltre. Siamo sulla prima pagina del mattino. Renzi lancia Italia Viva. Conte attacca una minaccia. L'ex premier con me 40 parlamentari. Palazzo Chigi ora a rischio della stabilità. La scissione scuote anche Forza Italia. E poi a centropagina l'impresa Champions del Napoli. Che ha battuto i campioni in carica del Liverpool. The Champions siamo noi. Napoli da urlo. Liverpool. K.O. Mertens sul rigore. Poi Prodezza di Llorente. Sotto la testata il nuovo film con le dichiarazioni dell'attore Tom Hanks. Il cinismo è trionfa perché si vende facile. E poi sul fronte musica dei giornalisti. I fan sotto shock. Tommaso Paradiso è uscito dal gruppo. Proseguiamo. Siamo sulla prima di Libero. L'apertura. Sedotti e bidonati. Ecco i tre beffati da Renzi. Vediamo appunto il premier Conte. Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. L'ex premier via dal PD con 40 parlamentari. Sì è un'operazione di palazzo. Nasce Italia Viva. Conte Di Maio e Zingaretti. Ora li faranno da camerieri. Salvini prima o poi gli elettori puniranno questi venduti. In taglio medio la fotonotizia. Platinet sono stanco di mangiare troppo. Annuncia il ritiro dalla TV. Devo combattere un male che porto dentro. Andiamo avanti e siamo sulla prima del messaggero. Ecco l'apertura. Renzi lo strappo all'arma Conte. L'ex premier lancia Italia Viva. Con me 40 parlamentari dal PD. Ma arrivano le defezioni. Gelo di Zingaretti. Palazzo Chigi minaccia la stabilità. Il colle. Non c'è cambio di maggioranza. E poi sotto la testata. Notti di Champions. Colpo Napoli. Battuto il Liverpool. L'Inter pareggia. Stasera Atletico Juve. Poi sciolta la band. Di giornalisti. Divorzio e veleni. Il leader Paradiso. Farò il solista. E poi ancora l'intervista a Guerini. Ho provato a convincerlo. Così rafforza i sovranissi. Dice un braccialestro appunto di Renzi. Oggi la visita. Macron a Roma. Paletti sui migranti. Assist sulla crescita. Il Benettoni. Il caso Autostrade. Atlantia. Si dimette la di Castellucci. Il congedo. Ho chiesto io di lasciare. E poi la foto. Notizia a centropagina. Israele testa a testa. Gans Netanyahu. I primi exit poll del voto. Decisiva la scelta di Lieberman. E poi tornando alla cronaca. Buche. Fondi sprecati tra facchini e bonus. Strade coi rattoppi. Lo scandalo dei soldi dirottati su altre spese. Restano incompleti. I pochi lavori di manutenzione. Andiamo avanti sulla prima del manifesto. Che apre così. Hashtag senza di te. In Parlamento siamo più di 40. Renzi dà l'addio ufficiale al PD. Annuncia il nome del suo partito. Italia viva. Ma nelle regioni sono in pochi a seguirlo. I nuovi equilibri all'interno della maggioranza. Preoccupano il premier. Gli alleati giallorossi. E anche il Quirinale. Sotto la testata. Netanyahu è senza maggioranza. Israele exit poll. Il premier dietro blu e bianco. Liberman ago della bilancia. Proseguiamo. Siamo sul sole 24 ore. Ecco qui l'apertura. Banche meno vincoli europei. Più capitale per le imprese. Credito e regole. Enria in visita in Italia. Non previsti nuovi aumenti nei requisiti di capitale. Il capo della vigilanza UE. Oggi al comando esecutivo dell'ABI. Poi vedrà Visco. Resta l'allerta sui crediti NPL. Evitare distrazioni perché l'economia peggiora. E poi abbiamo la foto notizia. Made in Italy. Le sfilate di Milano entrano nel vivo. Di Maio porta alla Farnesina anche il sostegno alla moda. E poi nel taglio medio Castellucci lascia Atlantia. 13 milioni di buon'uscita. Del Vecchio al 7% in Mediobanca. Generali nel Mirino. Delfin terzo azionista dietro Unicredit e a Vincent Bollorè. Proseguiamo. Siamo sulla prima pagina della stampa che apre così il governo nelle mani di Renzi. Controllerà 15 senatori. Sono decisivi per la fiducia. Conte e contatti con Letta per blindare il Senato. Il nuovo partito si chiamerà Italia Viva. I tecnici del Tesoro. Meglio tagliare il reddito. 5 stelle che quota 100. E poi ancora in taglio medio Atlantia via Castellucci. Buon'uscita da 13 milioni. Poteri a un comitato. Benetton siamo sotto shock. E poi le parole del ministro degli esteri ungherese sui migranti. Noi ungheresi contro le quote. Proseguiamo. Siamo sulla prima del tempo. L'apertura. Imprese felici con il governo di prima. Rapporto CNA. Per la prima volta dopo anni era scesa un pochino la pressione fiscale. Nel 2019 le PMI hanno finito per pagare le tasse ad agosto. Cinque giorni prima del solito. E poi nel tempo di Oscio l'espressione un po' sconsolata del Premier Conte. L'Italia Viva di Renzi fa morire di rabbia Conte. Di spalla. Montecitorio a prova di bomba. Fico ha blindato gli onorevoli. Dentro la camera. Intervista a Mastella. Campioni di trasformismo. Battono pure uno come me. Andiamo sulla prima del secolo.it con questa foto di Matteo Renzi con il capo dello Stato Mattarella. Ha fatto fesso pure lui. Si chiede appunto il secolo. Mattarella sapeva della scissione di Renzi. Ora per il Conte Bis un'altra minaccia. Altro che stabilità. I richiami a fondo pagina. Ecco il programma di Atreio. Ci saranno Conte e Orban. Conte spiazzato da Renzi. Poteva dirmelo prima. Militare ferito a Milano. Al grido di Allah Akbar. Proseguiamo. Siamo sulla prima della verità. Il Contaballe e gli all'occhi. Il ghino di tacco di Pontassieve. Si fa il partito. Italia Viva. Ma lascia molti suoi uomini nel PD. Così tiene in pugno il governo. Gabbando Zingaretti. Ma pure Grillo e Di Maio. Ora costretti a trattare con lui. E Conte la prossima vittima. E poi in taglio medio. All'Akbar e pugnala militare alla gola. L'aggressione alla stazione centrale. Arrestato un clandestino iemenita. E accusato di terrorismo. La prima del secolo XIX. Atlantia. L'addio d'oro di Castellucci. Buon'uscita da 13 milioni. La telefonata a Bucci. Inchiesta sui ponti. Luciano Benetton. Siamo sotto shock. La holding che controlla autostrade sarà ora guidata da un comitato. Ma la rivoluzione nel gruppo non si ferma qui. Andiamo a chiudere con l'avvenire. Ecco l'apertura. Droga e azzardo. Il governo agisca. Le associazioni premono per il contrasto alle dipendenze. Ma mancano le deleghe. La lotta alle slotte e agli stupefacenti non è prioritaria nel programma. E' assente dal dibattito. E poi ancora le elezioni in Israele. Israele senza maggioranza. Testa a testa. Netanyahu Gantz. Primi exit poll. La forza di Lieberman sarebbe determinante. Poi tornando alla politica di casa nostra con Renzi ma a metà. Conte non sta sereno. L'ex premier fonda Italia Viva. Non tutti i suoi lo seguono. Lasciamo le prime pagine nazionali. Torniamo sulle locali. Lo facciamo attraverso le pagine del messaggero. restando un po' a quelli che sono stati gli argomenti. O meglio, quello che è stato l'argomento principale che abbiamo visto sulle testate nazionali. Ovvero la scissione nel PD. Leggiamo appunto sul messaggero d'Alessandro D'Alfonso. Divisi. Pezzo pane. Un grave errore. Ovviamente riferimento alla scissione del PD. Rapino e fusili annunciano l'addio. Di Pangrazio riflette. Paolucci dice no. Di Benedetto. Anticipato i tempi. Legnini. Ipotesi. Commissario Sisma 2016. Ginobili invita a Rosseto il braccio destro dell'ex premier. A Teramo Minosse. Saluta i Dem. Qui vediamo chi passa e chi no. Tra coloro che passano a Italia Viva. Camillo D'Alessandro. L'attuale deputato ha previsto un incontro con Matteo Renzi. E poi Marco Rapino, l'ex segretario regionale del PD. Chi invece resta nel PD? Luciano D'Alfonso ha detto senza esitare appunto resterò nel PD. E poi Stefania Pezzopane, la deputata, ha definito la scissione dei renziani un grave errore. E allora vediamo il servizio realizzato ieri dal TG6. Renzi si è deciso e fuori dal PD. L'ex premier fonderà un movimento a sé, ma comunque sarà d'appoggio al secondo governo Conte. Renzi infatti è stato uno degli attori fondamentali per il raggiungimento dell'accordo che ha portato alla nascita del governo giallorosso. Oggi nasce un nuovo soggetto politico che è tutto da costruire, che vuole abbracciare tutte quelle persone che oggi non si sentono rappresentate dal Partito Democratico e vogliono trovare una nuova casa che sia accogliente dove insieme si possono scrivere nuove pagine per il futuro del nostro paese. A noi, alla Leopolda, che ci sarà tra il 18 e il 20 di ottobre, lanceremo il nostro programma. È un programma che vogliamo scrivere insieme ai cittadini che fanno una domanda di futuro. Cosa significa una domanda di futuro? Significa dare nuove opportunità ai giovani, pensare a fare tornare a crescere questo paese, con misure che stiano a cuore di quelle persone che ogni giorno si svegliano, vanno a lavorare, producono. Penso ai giovani imprenditori, penso al manifatturiero che è un settore che è ancora in crisi. Insomma, ridiamo speranza all'Italia, l'Italia che vuole ripartire, l'Italia che ce l'ha fatta, un'Italia che vuole dire di sì. Questa è l'ennesima scissione in seno al centro-sinistra, resa nota soltanto nelle ultime ore, ma che era già nell'aria da almeno 20 giorni. Ovviamente vi sono ripercussioni anche nel PD abruzzese, dove diversi esponenti sono già pronti a passare al nuovo partito, di cui ancora non si conosce il nome, ma che forse si chiamerà l'Italia dei sì. La formazione che sta nascendo non vuole mettere in crisi assolutamente il governo, anzi lo vuole rafforzare. La nostra idea è proprio quella di essere un pungolo di avanguardia nelle elaborazioni di questo governo. Io penso che il governo Conte II ha una grande opportunità, l'opportunità di far tornare a crescere il paese. Non ci dobbiamo però perdere nelle liturgie che ci sono nel Partito Democratico. Il Partito Democratico spesso è un partito che è poco accogliente rispetto a quei giovani che magari si vogliono sentire rappresentati o magari hanno delle buone idee da mettere al servizio della politica e non ci sono riusciti perché le dinamiche della politica, soprattutto nel PD, spesso allontanano più che avvicinare. Sempre sul messaggero Abruzzo, Arab, Ater e Azzu, oggi nomi a sospiri, gatti, manca solo l'ok. E ora le pagine di cronaca di Pescara. Ecco qui la strage sfiorata dei pendolari. Sangue e terrore sull'autobus della tua Pescara Pianella. Alle 13.15 a Caprara lo scontro con un albero a bordo strada. 50 feriti. Una ragazzina rischia di perdere un piede, parziale amputazione di un orecchio per un altro viaggiatore. Poi ancora leggiamo, l'autista è costretto a una manovra d'emergenza per evitare uno scontro frontale. Un lavoratore esperto, dice l'azienda, che indaga. Abbiamo visto la morte in faccia, racconta Marco, le vittime sotto shock, consolate da genitori e familiari. Qui vediamo una serie di foto che raccontano quello che è stato un pomeriggio di grandissimo spavento sulla strada provinciale 12 a Caprara di Spoltore. Andiamo avanti. Siamo sempre a Pescara. La giustizia lumaca cancella la maxi truffa, cala il sipario della prescrizione sul giro di bidone a carico di aziende e istituti di credito. Escono di scena i 23 imputati. Pure un commercialista pescarese, secondo la ricostruzione del PM, avrebbe partecipato ai tre filoni delle frodi in affari. Persino un disabile tra i prestanome utilizzati per ordinativi e richieste di mutui fatti 12 anni fa. E poi ancora, in taglio medio, una torre e i colori di summa per la piazza Caduti del Mare. Punto sui lavori di riqualificazione di Borgo Marino Sud con il nuovo assessore Luigi Alboremascia. Andiamo avanti. L'orgoglio montesilvanese alla vigilia di Nuova Pescara. Dalla prima locomotiva a Giovanotti, la parabola raccontata da tre cittadini doc, il senso dell'identità e il contrappeso naturale all'incognite della fusione. Gallerati distingue tra residenti e autentica popolazione, turismo e accoglienza. Le nostre vocazioni, Pavone non nasconde il rischio periferia, Agostinone rilancia. Perché no? Una grande città con Cappelle e Silvi. Qui appunto nell'intervista le parole di Sergio Agostinone, Massimiliano Pavone e Renzo Gallerati. Poi ancora, Casello è metropolitana per il rilancio di Popoli. La capitale della Val Pescara decisa a rompere l'isolamento rivendicando il ruolo di chiave d'Abruzzo. Proseguiamo e siamo sulle pagine dell'Aquila. L'albergo di Campo Imperatore bisogna trovare un altro milione. È necessario adeguare la progettazione del recupero alla nuova normativa antisismica. Tempi più lunghi, notizie migliori per quanto riguarda il cristallo. Conclusa la ristrutturazione, avviso per la gestione. Si pensa già alla prossima stagione sciistica, ma il futuro del centro turistico resta un rebus. Poi vediamo questo articolo, questo richiamo, restituzione delle tasse. Marsilio e Biondi scrivono ai ministri. In taglio medio, ricostruzione, laboratori precari. Scoppia il caso, un esodo verso situazioni più stabili che al momento fa registrare un calo di almeno il 30%. Poi ancora, scuole, le norme frenano la rinascita. Calvisi, delegato della provincia, servono d'eroghe, altrimenti per ogni edificio c'è bisogno di almeno 4-5 anni. I lavori alla sede del classico di Pettino finiranno nel 2020. Per il nuovo complesso alla Ex Rossi si attende il comune. Intanto il nuovo polo scolastico di Sassa finanziato, ma ancora in alto mare, non si sa più quando potranno partire i lavori e soprattutto se la struttura sarà costruita nel terreno previsto. Proseguiamo, siamo a Sulmona. Bimbo morto, il PM. Processate i genitori. Omicidio colposo. Chiesto il rinvio a giudizio per mamma e papà del piccolo Gianluca. Arrivato in ospedale disidratato. La causa del decesso, shock grave da gastroenterite in corso. La madre infermiera non si sarebbe subito accorta della gravità. Andiamo avanti e siamo sulle pagine di Chieti. Genitori pestati, case a pezzi, storti così soldi per la droga. Scattano le misure del giudice per due giovani se si avvicinano alle vittime. Rischiano l'arresto sorpresi alla villa mentre fumano uno spinello. Diciano venne denunciato per 12 dosi di marijuana. Provvedimenti notificati dai carabinieri in due piccoli centri della provincia. E poi di spalla tutti i tagli al sociale discussi in pubblico. L'incontro è fissato per venerdì e è stato promosso dalle organizzazioni sindacali. E poi ancora siamo a Lanciano. Di nuovo la cronaca. Porta la droga nelle scarpe in carcere. Preso un romano di vent'anni. Forse cercava di passare inosservato in occasione della celebrazione della penitenziaria. La direttrice Lucia ha vantaggiato. Siamo a livelli di eroismo. Due agenti non hanno potuto partecipare perché picchiati a sangue. Il sindaco Pupillo, onorati di questo servizio, tra i primi in Italia. Andiamo avanti. Siamo sulle pagine di Teramo. Ater 30 alloggi per gli sfollati. Ricostruzione con 104 tecnici. Entro due mesi i nuovi immobili saranno assegnati ai terremotati. Raddoppia il personale assegnato agli uffici per accelerare le pratiche. Il direttore Vincenzo Rivera. Con l'arrivo del nuovo personale a ottobre potremmo dare risposte concrete. Di spalla, leggiamo, per 5 mesi non paga il pedaggio assolto. Non è stato dimostrato che il romano fosse alla guida. Autostrade era parte civile. Poi ancora piano asfalti. Oggi partono i lavori. Caos traffico dopo una lunga serie di intoppi burocratici. Via libera all'intervento di 800 mila euro. C'è un avvicinamento al comando provinciale dei Carabinieri di Teramo. Asci lascia il suo posto. C'è Vaglio, il nuovo comandante sposato con una insegnante di francese. E ha due figlie. E poi ancora andiamo sulla costa. Torna il pesce al mercato. L'asta vola. Quattro tonnellate di scampi. Sogliole, merluzzi, calamari, mazzancolle. Questo è il mese delle triglie più economiche. Il direttore, due imbarcazioni di San Benedetto e Termoli hanno preferito vendere da noi. Dove c'è meno affollamento. Abbondante e di ottima qualità il pescato. Categoria soddisfatta. E sul stop al fermo biologico. Ieri la troupe del TG6 era a Pescara. Vediamo il servizio. Ho comprato delle sogliole, ho comprato delle triglie da fare arrosto. Da oggi c'è di nuovo pesce fresco sui banchi della marina di Pescara. Sì. È fresco sicuro quest'oggi. Sì, infatti. Come lo cucina oggi? Una parola. Però devo pulire un po' con la pasta, un po' al forno. Andiamo. Il fermo biologico è ufficialmente finito. E i pescherecci sono tornati a solcare il mare Adriatico. Un po' di tutto ci abbiamo. Dalle seppie, calamari, panocchie, merluzzi, sogliole. C'è un buon pescato questa mattina. Un bel assortimento. Nella città che alla pesca deve il proprio nome, finalmente torneremo a gustare la fauna ittica nostrana, senza necessità di doverla importare da chissà dove. È finita la condanna di sempre perché sono 30 anni che c'è il fermo biologico. Ovviamente senza retribuzioni. Un peschereccio come questo, tra due giorni si va avanti questa situazione qua. Devi andare col telecomando perché non si arriva di giù. Non c'è da fare tutte le cose. Da andare a fare tutte le cose, se no non è un casino. Il fermo biologico, che impedisce ai pescatori di calare le reti affinché i pesci possano riprodursi, desta sempre molte polemiche. Secondo coloro che vivono grazie al mare, vi sono altre soluzioni che tutelerebbero la fauna ittica, senza però impedire ai pescatori di continuare a lavorare. Il fermo secondo noi non si dovrebbe fare perché basterebbe limitare la zona di pesca. Il pesce piccolo sta dentro le semiglie, non si pesca dentro le semiglie, lì nessuno lo tocca. Il pesce che abbiamo a largo, quello dove sono andato io a pescare, è lì rimasto tale e quale perché non è il momento di riproduzione. L'unica cosa è che quei totani piccolini sono diventati più grandi e adesso in numero di pezzi abbiamo avuto una quantità maggiore di pescato. Andiamo a chiudere sempre sull'ultima pagina di Cronaca di Teramo, sul Messaggero, siamo in provincia, a Roseto, comunità per minori chiusa dopo 23 anni, proteste, gli operatori rischiano di perdere il posto di lavoro, ho chiesto un consiglio comunale straordinario a Roseto degli Abruzzi. Noi ci fermiamo qui con la prima parte di Mattino 6, diamo lo spazio alle previsioni del tempo, poi la pubblicità e poi ci ritroviamo per leggere la città, il centro, vedere anche dei servizi del Tg6, ovviamente anche la pagina di sport. Di nuovo buongiorno, Mattino 6 riprende con le pagine del centro. Ecco qui, pagina 2, cresce lo scontro, Porti, il fronte delle aziende si è spaccato, spunta una lettera pro Ancona di 8 associazioni con 40.000 iscritti, siamo con Marsiglio e salta il vertice per Civitavecchia. E poi nel taglio medio, il sindacato si rivolge alla regione, unità di crisi per aziende in bilico, la CISL in Abruzzo, 100 vertenze che interessano 25.000 lavoratori. E poi ancora lo spoil system in regione, decisi i posti da spartirsi, ecco la mappa, l'Aquila riunione di maggioranza decisiva per occupare altre 15 poltrone, ma l'avvocato Morra non accetta la nomina. E poi ancora in taglio medio, Febbo rinfaccia a Paolucci, le cose non fatte dalla sua giunta. In taglio basso, Marcozzi no al referendum targato Lega, la capogruppo 5 Stelle mette subito i paletti a Bellachioma, l'Abruzzo ha ben altre priorità da risolvere. Pagina Abruzzo, si parla in questo caso di gioco d'azzardo, scommesse, l'Abruzzo brucia 2 miliardi. Nella classifica 2018 il primato va alla provincia di Teramo e alla città di Pescara, subito dopo l'Aquila e Montesilvano. E nella lista spiccano i 79 milioni di San Giovanni Teatino che corrispondono a ben 5.470 euro pro capite. Spiccano anche Avezzano, 62,5 milioni, Spoltore e Giulianova, 55, Vasto, 49 e Scurcola, Marsicana, 46. In taglio basso, IVA sulle patenti, le autoscuole scioperano serrate in tutta Italia contro la decisione di far pagare l'imposta al 22% con il recupero fino al 2014. Andiamo avanti, siamo sulle pagine di cronaca di Pescara, ancora con quanto accaduto ieri a Spoltore. Bus finisce contro un albero, 24 feriti, operata una 17enne. Un Audi va a sbattere contro il mezzo tuo, 50 studenti salvi per miracolo. Parla l'autista, il conducente andava a 40 all'ora ho cercato di evitare la macchina. Poi ancora in basso leggiamo la ragazza al terzo anno dell'alberghiero è stata sottoposta a un lungo intervento chirurgico per le grevi ferite a un piede dopo essere rimasta incastrata tra le lamiere. Il presidente di Tua, Giulianti, abbiamo avviato un'indagine interna il conducente veniva da due turni di riposo ed è escluso che il mezzo fosse sovraffollato. E poi ancora le testimonianze di colpo l'inferno. I ragazzi, sangue e vetri dappertutto. Lo studente del Da Vinci che per primo ha chiamato il 118, sono corso per strada a chiedere aiuto. Ero sconvolto. Arber Oksaha, 15 anni, pensavo che la signora vicino a me fosse morta. Ho chiamato i soccorsi, ma non riuscivo a parlare. È davvero drammatica questa testimonianza. Proseguiamo. Siamo a pagina 15. Torna la paura in centro. Feriti due agenti. Ancora violenza nell'area di Risulta. Senegalese prima prende a calci il cugino, poi manda in ospedale i poliziotti. Arrestato. L'uomo ha colpito al volto il parente e danneggiato l'auto di suo fratello. Proseguiamo. Dopo la sentenza del Tar, i balneatori, ora risarciteci per i danni dell'erosione. Gli imprenditori chiedono al comune di rivedere al ribasso le tariffe demagnali. E poi ancora, nella pagina successiva, c'è chi ha perso 100 ombrelloni. In ballo da 5 anni anche il riconoscimento dello stato di calamità per l'inquinamento. Proseguiamo. C'è appunto rivoluzione al comune di Pescara. Comune, Masci, cambia i vertici. Ecco i neodirettori e capi servizi. Dopo la scelta dei dirigenti, il sindaco completa l'organigramma con i responsabili degli uffici dell'ente. Una dipendente colta da malore. Zuccarini, Silveri, Morisani e Rossi ora diventano coordinatori d'area. Eccoli qui i quattro che sono stati appena nominati. Proseguiamo. Siamo sulle pagine di Montesilvano. Nuova Pescara, primo passo. Ma i sindaci restano spaccati. Domani pomeriggio si riunisce l'Assemblea Costitutiva al Via Litter per lo Statuto. De Martinis e Di Lurito chiedono di cambiare la legge regionale. Masci, si deve andare avanti. Proseguiamo. Torniamo alla cronaca. Assalto a due gioiellerie. Caccia a una banda. Cinque malvimenti in azione a Villa Raspa e poi a Marina di Città Sant'Angelo. Vetrine sfondate e fuga su un'auto scura. Proseguiamo. Il nuovo impianto. Il terzo devoratore a Francavilla. Manca un parere stop all'assalto. Il genio civile ha chiesto all'ACA una integrazione della relazione già presentata. L'iter si è fermato. Critici 5 Stelle, l'azienda acquedottistica in forte ritardo. Così si allungano i tempi per l'opera. Andiamo avanti. Matrimoni da favola. Riserva o palazzo ducale. Nozze magiche a popoli. Sempre più coppie decidono di festeggiare il loro giorno più importante in location speciali. Le sorgenti del Pescara scelte per il panorama mozzafiato. E ora siamo alle pagine di Chieti. Andiamo subito con la cronaca. Aizza il pitbull contro i genitori anziani. Minacce di morte e botte. Così pretendevano i soldi per comprare la droga. Ora scattano i provvedimenti del giudice in due allontanati da casa. E poi ancora a Vasto, sempre la cronaca, i NAS chiudono il centro anziani dell'Iris. Per i carabinieri la struttura fa attività di assistenza senza essere autorizzata. La visita rispettiva effettuata il 26 di agosto. E poi in taglio medio leggiamo Cambia scuola. L'alunno bocciato due volte. A Fossacesia non basta il dietro fronte dell'istituto a riammetterlo. La madre lo ha iscritto a Lanciano. E ora le pagine di Teramo. Truffe agli anziani. Arrestato il finto maresciallo dell'arma in cella dopo il colpo ai danni di una 72enne teramana le aveva chiesto di pagare per il figlio fermato in caserma. E poi al comando provinciale dei carabinieri di Teramo c'è l'avvicendamento. Asci lascia una città più tranquilla. Il tenente colonnello va a Sondrio. Al suo posto arriva Baglio. Vediamo il servizio del TG6. Cambio della guardia. Al comando della compagnia dei carabinieri di Teramo dopo cinque anni il tenente colonnello Lizziero Asci andrà al comando provinciale di Sondrio e sarà sostituito dal nuovo comandante Luigi Baglio. Asci nel salutare la stampa e tutti i suoi compagni che lo hanno affiancato in questo viaggio professionale teramano ha fatto un bilancio del lavoro di prevenzione svolto sul territorio nell'ultimo quinquennio. Lascio una Teramo sicuramente sotto il profilo dell'ordine della sicurezza pubblica più tranquilla. Abbiamo con il personale della compagnia di Teramo ha profuso in questi cinque anni il massimo sforzo per garantire al meglio ordine e sicurezza pubblica sul territorio insieme alle altre forze di polizia. È stata veramente un'azione corale ed è stata questa l'arma che strategicamente ci ha consentito di poter ottenere risultati. Le operazioni più importanti in questi anni? Non sottolineo alcuni aspetti e le operazioni in particolare abbiamo lavorato bene dal punto di vista della prevenzione diciamo che comunque dobbiamo fare sempre meglio questo è un dato certo con le altre forze di polizia ma sotto il profilo della prevenzione il dato importante e oggettivo è quello di una diminuzione dei reati predatori. Certamente sono i reati più allarmanti che vanno a colpire le fasce cosiddette deboli non è semplice ma stiamo e abbiamo sempre lavorato con il massimo impegno è di oggi a conclusione di un'attività di indagine ed in corso a Napoli l'arresto in esecuzione di un'ordinanza di custodia che adorare in carcere proprio di un soggetto pregiudicato per le truffe nei confronti degli anziani in particolare proprio con il metodo del finto maresciallo dei carabinieri Il nuovo comandante della compagnia dei carabinieri di Teramo sarà dunque Luigi Vaglio 45 anni, salentino sposato con due figlie la sua bussola? Il rispetto di leggi e regolamenti Sempre le pagine del centro siamo in provincia di Teramo a Silvi la nuova ciclabile cambierà il volto al lungomare di Silvi quasi pronto il progetto prevede due corsie per le biciclette separate dalle aiuole e i parcheggi spostati sul lato mare E ora le pagine dell'Aquila appunto a due giorni dalla visita del Capo dello Stato ecco le reazioni la scuola in coro Mattarella è riuscito a ridarci la speranza presidi e insegnanti iniezioni di fiducia da parte del Capo dello Stato e del Ministro Fioramonti Maester Cataldi, studentessa del Bafile è critica a noi giovani non basta solo l'attenzione mediatica e poi in taglio basso restituzione delle tasse si muovono regione comune Marsiglio e Biondi scrivono ai ministri dell'economia e degli affari europei subito una soluzione no ad altri interventi tampone l'ultima proroga concessa dal governo scade il 31 dicembre ci sono 130 imprese a rischio se dovranno versare all'Europa oltre 70 milioni di euro e poi ancora a Rocca di Mezzo un'altra tragedia sfiorata sulle strade si schianta in moto contro una mucca ricoverato in ospedale un uomo di 51 anni di spoltore con ferite la testa si cerca l'animale fuggito dopo l'urto lasciamo il centro andiamo ora sulla città il quotidiano della provincia di Teramo andiamo a pagina 5 dal Terio in pol per la direzione dell'IZS il direttore sanitario già facente funzione dopo Mattioli ha ottime chance di succedere a se stesso bando appena chiuso sono 12 le candidature per la selezione del posto che fu di Vincenzo Caporale per oltre un ventennio la presidenza in regione riaperti i giochi per il vertice del CDA in Lizza Morra e Di Giulio ma dipende anche dalla Lega andiamo avanti asfalti oggi si parte da Ponte San Gabriele per le frazioni tutto rinviato al 2020 occhio ai sensi unici alternati impossibili per Ponte San Ferdinando la novità per i controlli sui lavori a campione ingaggiata dalla Tecnometer che controllerà la qualità dei materiali anche in questo caso il servizio del TG6 per chi frequenterà Teramo nei prossimi giorni ci saranno pesantissimi disagi alla viabilità parte infatti la prima tranche di interventi urgenti di asfaltatura su alcune arterie principali della città si inizierà con i ponti San Gabriele e San Ferdinando per continuare su Viale Crucioli Via De Gasperi e Circonvallazione Spalato erano almeno 10 anni che la cittadinanza invocava il piano asfalti l'assessore comunale Valdo di Bonaventura assicura che questa volta sarà la volta buona ma intanto direi che dopo 10 anni si torna a parlare di asfalti è un dato importante sono 10 anni che sulla città di Teramo non si mette un metro di asfalti quindi al di là io non voglio sui ritardi che possono essere normali fisiologici quando si attiva una procedura con mille difficoltà abbiamo trovato risorse senza fare mutui con piccola devoluzione di mutui che ha portato avanti che ha impegnato l'amministrazione in maniera soprattutto dal mio assessorato in maniera importante quindi il periodo estivo si è stato ieri ai mille problemi nati dall'acquisizione di queste risorse quindi dopo 10 anni riparliamo di asfalti una bella notizia per la città che sicuramente in questi giorni poi creerà anche molti disagi si partirà da Ponte San Gabriele ovviamente interesserà anche l'area di Alcide di Casperi fino all'hotel Sporting quindi per poi trasferire i lavori su Viale Crucioli Viale Crucioli lì converterà notevoli disagi quindi ci siamo attivati con l'impresa per lavorare affinché possa lavorare anche sabato e domenica in modo da in quelle giornate quindi di creare meno disagi possibili ai cittadini ovviamente le zone interessate dagli asfalti saranno diverse poi ci sarà Via del Castello Via Le Cavour Via del Castello che sarà fatto quasi del tutto ci sarà un tratto sarà interessato un tratto di Via De Paulis un tratto Via Referza sono tratti che veramente ipercorribili diciamo che i grossi interventi sono questi pagina 7 sulla città siamo alla politica Renzi crea scompiglio nei dem terramani ginobliani orientati all'ascissione d'Alfonsini schierati con Zingaretti Manola Manola di Pasquale io resto nel PD proseguiamo pagina 8 impresa terramana restaurerà il Quirinale la Gavioli di Montorio sistemerà la manica lunga che collega il Palazzo di Stato alla residenza del Presidente un onore e un grande orgoglio per la nostra impresa restaurare una parte così importante dello storico palazzo dice appunto Dino Gavioli pagina 9 Popolare di Bari crea l'osservatorio per i soci composto da tre figure terze si occuperà di rapporti tra banca associazioni consumatori e soci proseguiamo pagina 10 abbiamo già visto in precedenza di servizio Asci lascio una Teramo più tranquilla il comandante della compagnia dei carabinieri di Teramo va a Sondrio al suo posto Baglio Maggiore del Noe e poi ancora a pagina 11 i carabinieri arrestano un falso carabiniere napoletano 58enne spacciandosi per Maresciallo aveva truffato 1000 euro ad una anziana di Nepezzano e poi proseguiamo traffico di droga dunque siamo sempre alla cronaca beccato in Sicilia con 46 chili di marijuana Teramano di 48 anni incappa in un controllo della guardia di finanza di Catania e finisce in manette l'arresto su disposizione della procura di Catania il 48enne è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria l'uomo è stato fermato durante un normale controllo da parte dei militari del pronto impiego proseguiamo e andiamo alle pagine di Roseto ecco qui la città protesta per la chiusura della comunità rabbia dei rosetani sui social e striscioni sulla sede del centro di accoglienza minori di Montepagano i motivi della chiusura la comunità ospitava solo tre ragazzi e gestirla era diventato antieconomico per la cooperativa e poi ancora sempre a Roseto incassati 260 mila euro dalle strisce blu stop al pagamento sul lungomare resta invece in vigore sulla nazionale dal primo gennaio al 15 settembre sono stati emessi 140 mila ticket con una media di 544 al giorno e andiamo ad aprire ora la pagina dello sport sulla città il Teramo ha ritrovato il suo pendolino un assist per Magnaghi ma soprattutto una prova convincente quella di Matteo con la Cavese poi parla anche della prossima trasferta di Rende o meglio sul neutro di Vibo Valencia contro il Rende sappiamo che il terreno di gioco non è in perfette condizioni per questo la gara di sabato va preparata in maniera meticolosa bello tornare al Bonolis ho ritrovato molte persone che conosco andiamo ad ascoltare le parole dell'esterno del Teramo Luca Di Matteo ma sicuramente è una vittoria importante perché venivamo da un periodo difficile abbiamo fatto questa vittoria in casa davanti ai nostri tifosi quindi per noi è importante era importante in questo momento vincere anche perché l'autostima cresce si lavora meglio e quindi quindi niente adesso però non dobbiamo accontentarci perché siamo all'inizio e prepariamo questa partita di Rende perché adesso è difficilissima in ogni campo in questo girone è guerra quindi andiamo a Rende a fare una gran partita perché abbiamo bisogno di punti ma sicuramente può essere quella scintita però non dobbiamo curlarci su questa vittoria perché è già passata adesso dobbiamo lavorare solo perché dobbiamo migliorare tanto c'è da migliorare e niente quindi adesso lavoriamo e ci prepariamo questa partita che è fondamentale in questo momento soprattutto Prima di vedere il centro messaggero vediamo le prime pagine delle testate nazionali sportive Gazzetta dello Sport chiaramente si punta tanto sui primi risultati di Champions ieri la delusione Inter e l'impresa del Napoli e quindi Napo-Leone Notte Magical San Paolo Mertens-Jorente in gol Coulibaly un gigante straordinaria impresa battuti 2-0 i campioni in carica del Liverpool e poi falsa partenza sul fronte Inter Conte io il più asino i nerazzurri pareggiano con lo Slavia 1-1 Inter in Europa si smarrisce si salva il 92esimo con Barella il tecnico durissimo tutti insufficienti a cominciare da me e poi Juve e Atalanta a voi Sarie CR7 con l'Atletico per vincere e volare Gomez balla con i debuttanti non mi gira la testa proseguiamo e siamo alla prima del Corriere dello Sport anche qui il tema resta il medesimo Conte io asino Inter debutta con un deludente 1-1 contro lo Slavia Barella pareggia il 92esimo il tecnico denuncia tutti i suoi errori brutta prestazione sono il colpevole Napoli Maturo affonda il Liverpool da favola alla pari con i campioni d'Europa per 82 minuti gli azzurri passano in vantaggio sul rigore con Mertens grande protagonista e raddoppiano con Iorente che sfrutta un errore difensivo Driss scatenato una straordinaria vittoria vale la qualificazione e poi Sarri esame Ciolo divertiamoci Juve a Madrid attenzione Higuain calce un pannello pubblicitario e poi così la Juve ricattata tagliò con gli ultra biglietti gratis le minacce ad Agnelli e la decisione di collaborare con la Digos in taglio basso basket campionato American Style Messina guida Milano Teodosic Faro Virtus sarà una stagione modello NBA e ora la prima di tutto sport ma che toro è 1 a 2 fallita l'ennesima occasione per il salto di qualità un grande Lecce vince con Farias e Mancosu non basta il rigore di Belotti andiamo avanti torniamo ai quotidiani locali andiamo sul centro ecco qui serie B il Pescara tra gioie e dolori Bocchetti la rosa è ampia non torniamo sul mercato oggi Tuminello sarà operato al ginocchio il DS esclude l'arrivo di un centravanti abbiamo fiducia in maniero Brunori e Borrelli a gennaio faremo valutazioni e poi il Delfino svolta a destra Vitturini sorpassa tutti il terzino titolare a Cosenza mai pensato di andare via voglio rivivere le emozioni della promozione avanti ancora serie C di Matteo Teramo ora non fermarti il terzino bianco rosso guarda la trasferta con le rende serve un'altra vittoria Iachini punta a mille abbonamenti e poi ancora in taglio medio Memmo i direttanti tengono nonostante la crisi il vicepresidente della LND Abruzzo in terza categoria confermato il numero delle iscrizioni in taglio basso basket al via il trofeo Lido delle Rose stasera Rossetto debutta con Roma in Serie B alle 18 le Esachietti affronta in amichevole Civitanova al Palatricalle in campo anche Giulianova e Vasto e ora siamo al volley di A2 con il ritratto di questo personaggio figlio d'arte Bertoli figlio d'arte io papà e l'obiettivo playoff è il mio mental coach fondamentale per la mia crescita pallavolistica ambiente familiare buon gruppo vogliamo disputare un grande campionato all'inizio ero il figlio di Bertoli poi sono riuscito a ritagliarmi uno spazio tutto mio ecco qui il campionissimo pluridecorato Franco Bertoli e il figlio Matteo a Ortona il nuovo corso si poggia su un giocatore con un genitore dal passato illustre medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Los Angeles nel 1984 andiamo avanti siamo al ciclismo Landa Nizzolo e Kreuziger al trofeo Matteotti stasera la presentazione della 72esima edizione all'Aurum tra gli abruzzesi Ciccone Onesti Rabottini e Di Sante lasciamo il centro andiamo a vedere ora il messaggero Abruzzo ecco qui le due pagine di sport Vittorini riprendo il mio Pescara il terzino destro cresciuto nel Vivaio è stato tra i migliori in campo a Cosenza è stato bellissimo in ogni piazza che ho girato ho sempre pensato di poter tornare dichiarazioni fatte anche al microfono di TV6 del TG6 vediamo Davide Vittorini 90 minuti a Cosenza è stato un bel pomeriggio i primi 90 minuti per intero peraltro conditi da una vittoria sì assolutamente sono stato felicissimo di essere schierato dal mister è stata una partita difficile lo sapevamo a parte tralasciando il campo e il caldo abbiamo trovato una squadra che comunque ci costringeva ad abbassarci a giocarci queste seconde palle in mezzo al campo comunque siamo stati bravi perché siamo stati solidi e abbiamo dimostrato di essere una squadra che comunque può giocarsela su ogni campo e che sta formando un ottimo gruppo hai affrontato una sorta di ripartenza dopo te poi c'è stato Fano l'esperienza dell'anno scorso in Serie C con Epifani adesso torni a Pescara per te che sei giovanissimo però si è trattato di ricominciare da capo sì sono state tutte esperienze che alla fine mi hanno dato una grossa mano a dire la verità perché penso che oggi un ragazzo che esce dalla primavera per forza di cose se la primavera non è una di alto livello come Inter Atalanta Milan eccetera deve fare un percorso obbligato che passa attraverso campionati purtroppo minori attraverso esperienze di Serie C io sono stato alla fine contento di averle fatte ogni anno passato gli anni scorsi non pensavo ad altri di tornare qui a Pescara per potermela giocare sempre sul fronte Pescara Tuminello si opera la società dice no agli svincolati in taglio basso Acqua e Sapone di Barbarossa al Matteotti sarà main sponsor della corsa di domenica il Cittiazzurro Cassani tra gli ospiti Lido delle Rose siamo al basket il torneo più antico prende il via oggi partecipano gli Sharks Latina Euro Basket e Biceglie la Serie C di calcio con le parole di Luca Di Matteo l'esterno del Teramo Teramo arrende sarà guerra l'ex Lecce è tornato al Bonolis dopo la promozione in B poi revocata ho salutato tanti amici credo che il successo sulla Cavese sia stata la scintilla che cercavamo tutti di spalla la Serie D Giulianova in crescita passo alla difesa 3 del Grosso però non possiamo prendere i gol all'inizio della gara dice il neotecnico giallorosso e poi ancora per il campionato di eccellenza Lanciano ai tifosi chiedo soltanto un po' di pazienza parla di Paolo il terzo mister sulla panchina pardon in realtà è di Pasquale il terzo mister sulla panchina davanti va bene ma dobbiamo registrare meglio la difesa e poi per il campionato di promozione parla il leader dell'Aquila Calcio di Francia l'Aquila ora continuità sostegno da Buffon finisce qui la rassegna stampa di mattino 6 vi ricordo le tre edizioni principali del TG6 per la nostra informazione alle ore 14 alle ore 19 e alle ore 23 invece mattino 6 tornerà domani mattina alle ore 8 grazie a Claudio Di Giacomo in regia e grazie a voi per la cortese attenzione buona giornata a tutti i